ah ah dai che stiamo a riscaccio che vale stiamo a scrivin' c'e' guardo un pacco a casa 100 euro tornando più a 3 Cosa? ordine su amazon ashar che arrivano al prossimo covid20 sono sfinito 12 minuti 12 minuti ciao Robi arriviamo dritto non posso andare non lo so oddio muoviti che siamo irritati tu sei in mezzo come vedo le macchine spero che riveda qualcuno dietro che inizia a suonare il mio tampone mi faccio la macchina nuova vai piano non l'avevo vista comunque guarda c'è figlia mamma mia via 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 noi siamo qua ma perchè chiude gigio no alla fine è appaccato perchè ha il covid veramente filippo ha fatto il tampone ed è negativo con i sciala Robi mi ha mandato la posizione vediamo dov'è è in autostrada scusa l'aereo ha fatto tardi è stato uno sciopero uno sciopero si mette su youtube canzoni senza copyright posso metterle? wow non l'ho mai sentita era morta mascherina devo fumare no eccolo qua rossaccaggiante con la smart con un cavallo un pony guarda le amici di fifa GLS trasporta droga stai senza saperlo ah mi dovrebbe rivedere l'ipad che Ferrari è? l'f8 tributo io non pensavo mai che ci fosse l'f8 come i fogli adesso arriva con la 500 anche lui pensavo venisse tuo con la Ferrari ricordo omla 500 non mi deluberai piccola eeeh vai vai ehi ci sono io campione tutti adesso tutti che la guardano ma in verità stanno guardando me si guarda questa piccolo no oh shit se ti pensavo venisse la Ferrari invece non la mia ahahah cosa sta succedendo? ahahah ma cosa? eeeh mamma mia sono in seconda non parte se li vado addosso li do tantissimo ahahah si poi 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 Dio povero mi ha fatto un liscio vieni qua guarda come tutti mi guardano è una 500 ragazzi occhio al vecchietto vecchio vecchietto eh ma li metto le mani addosso Jimmy dai che eeeh ma se c'ho il coso qua davanti mamma mia dov'è la pula qua adesso mi arrestano ah ma c'hanno i carabini davanti porca troia eh sicuro adesso la tirano ma fin su che la tirano ma adesso è meglio sti guardali guardali ma andate ho 64 cavalli si iluisce dalla macchina perchè sta per morire ovviamente questa parte rimarrà tra di noi io io la macchina e scappo cambio la targa con quella della 500 mi fa ma quella è la mia? no perché non partono? ah no vedi cosa vuol dire qua io non mi ricordo Ferrari e 500 ma guarda come fa il dosso fuori che spacca tutto ahahah io posso prendere in volo ahahah guarda dove sono vai vai corri 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 cosa dai chi sta per esplodere la macchina dai occhio 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 vecchio ma se mi veniva addosso hai visto? oddio pò potevo fare una macchina nuova dio santo non hai niente la voglia anche adesso io per una macchina veloce più della sua hai voluto venire in 500? ah poto venire anche io col Ferrari metti i miei di 500 e l'ho tenuto in gas mamma mia bike è morto ce l'hai spazio dietro no? perché c'è il motore si ti sei dietro e stai anche al caldo tu hai rinfianzato dove fai video con tutta sorella e io sono morosa tu mi stai con sua sorella che coglione ti sei fermato in mezzo alla strada ma cosa ti lasciarlo in mezzo alla strada? ma ci sono la strada e la ferma la? si no non l'ha capito ma vecchio cosa la fermi la? e deve entrare e invece la Ferrari con le porte aperte no? esatto in mezzo si bellissima eh niente da dire le cose a Ferrari eh però ma veramente forte la golf vedrai quanto va basta che ci schiantiamo vedete si si a ah 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 oh ma il piano questa quante cavalli ha? la quant'è il miento? 7 e 21 ma la ventuno e il cavallo in più si sente? L'ho chiuso in piano Com'è vecchio? Comunque vai forte A un certo punto lo aspettiamo no Facciamo provare il ferro Dovrebbe andare un po' come quella di Perillo giusto? Molto più forte Che bello Figo Voglia si slitta Chi ti conosce Ti vede così capito Dice vabbè quello sta sempre ubriaco Sempre fumato Riesce a metterlo lì in mezzo Ormai che va la cadra Tiriamo sotto questo Tu se non ci pensi te ci pensa Ma è più scendere Vecchio stragordo È possibile fare una tirazione qua? Sì sì dai Ovviamente tu vai forte Mi vaccino Alla scuola mia si può anche schiantare Sai che ridere se la schianta? Noi pensiamo che tu ti fossi schiantato a un certo punto Levo la tua posizione e c'era il puntino fermo Qui è Mike Ma sai qual è il bello? Che c'hai gente di là che sta arrivando col cavallo Corre in macchina Ma ce ne chiami su? Sììììi Andiamo? No 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 che non fa il cavallo Sai che se salta Mi compri uno Si stai facendo una moonwalk La moonwalk all'indietro Ah cazzo è vero La banca è sparita Si si è sicuro che prende il ciclista Che sei una merda Com'è Prima gli facciamo Se si ritira un sotto e lui Ciao Phil Ciao Phil Esci dalla mia macchina Scusi lei chi è? Per piacere chiude la porta Prima che chiami i carabinieri per piacere Questo vuole salire e Mike è di nuovo in mezzo Non dovrà passare il cavallo Dopo no Porco canale Neanche in centro a Pado Basta che non mi mangi il cavallo No no Io si Perché mi tocco il culo Oddio Sì sì ecco così bravissimi Adesso che ti mangia Mike Un pochettino nervosenza Con nervosenza Adesso carica Adesso carica Andate piano Mamma fatti Bella anche la macchina Grazie Grazie Grazie